Tre mesi fa un museo spagnolo ha mandato a ripulire un dipinto di Goya. Il dipinto è sparito. È stato un uomo spietato che vuole finanziare una violenta rivoluzione mondiale. Sono a rischio numerose vite. E vuoi che sia io a ritrovarlo? Precisamente. Cosa c'è per me, come si dice? Fallo per la regina e il paese. No! Va bene, regina e il paese, vitello, giospesi generali, ragionevoli. Intesi. Sono Lord Charlie Mordecai. Rispettato da tutti quelli che mi conoscono... ...approssimativamente. Bel colpo, signore! Uomo a terra! Sono un commerciante d'arte e un appassionato. Mia moglie è Joanna. Il mio unico vero amore. Volevo vedere come voi agenti segreti maschi gestite il mondo. Temo che dovrà puntare i piedi, tesoro. Scusa? Con il tuo permesso, certo. Joke è il mio servitore e si occupa di tutte le nostre questioni urgenti. Bravo, Joke! Sono anche sull'orlo della bancherotta. Pertanto, ci occorre un piano diabolicamente astuto per assicurarci la ricompensa. Arraffiamo il quadro quando nessuno guarda. Ingenioso. Vai in America e fai il necessario per riportare il dipinto. Dobbiamo aver preso una svolta sbagliata e siamo finiti sul set di un film pornografico. Georgina Crump è una notissima ninfomane. Chissà, questo magari è un saluto tradizionale in America. Non lo so. Trigger! È una mamma là dietro! Andata! Non mi piace! È qui che hanno rinvenuto il cadavere. Che stai facendo? Oh no, più a sinistra. Sì, a sinistra. Scusi, intendevo a destra. A destra. Godwin! Oh, Charlie!